Allora iniziamo questa bella e intensa sessione, li vedete ci sono tutti, è arrivato dopo 5 ore di viaggio in macchina, probabilmente sono 5 ore di viaggio come dire in coda, in macchina, quindi anche di questo potremo parlare. Iniziamo la seconda sessione di questo convegno che si intitola Il bosco e le montagne, quindi la natura. Allora non si può veramente, l'abbiamo già capito da questa mattina, considerare più Mario Rigonisterno uno scrittore, anzi un narratore di montagna, almeno non solo. Allora ricordiamoci che Primo Levi lo definì uno dei più grandi scrittori italiani, però è indubbio che la natura è il bosco, ma la natura è stata un leitmotiv della sua vita. In senso metaforico intendo, ma non solo, perché anche nel suo ricordo lui si è difeso. La natura ha dato a Rigonisterno riparo e protezione, nei suoi momenti difficili l'ha appunto salvato, ma anche nel proseguo della sua vita normale, quando è ritornato ad Asiago e lui da amante, permettetemi di usare questo termine, proprio amante della natura. E lo uso volutamente questo termine, portandosi dietro tutte quante le caratteristiche della parola amante. Lui la natura l'ha anche protetta, l'ha difesa, l'ha carezzata, fino negli ultimi anni della sua vita, quando secondo me erroneamente veniva persino definito ambientalista. Io penso che alcuni relatori che sono presenti su questo tavolo sono molto seguiti dai giovani, proprio perché in qualche modo vendono in loro un taglio ambientalista. Ma forse non è così, è proprio un modo etico di vivere che tutti quanti noi dobbiamo avere. Ma soprattutto Rigonisterno, quest'amore per la natura l'ha vissuta con grandissima competenza. Una competenza ineccepibile, perché lui era o sembrava essere un botanico, un antropologo, un forestale, un etologo, un geografo, un naturalista. Ma anche appunto, come parlerà il nostro primo ospite Luca Mercalli, anche un meteorologo, perché lo era assolutamente. E proprio di questo sentiremo dalle parole di Luca Mercalli e dalla sua testimonianza, come effettivamente Rigonisterno può essere definito meteorologo. Io vorrei ricordare a coloro i quali magari non sanno tutto di Luca Mercalli. Luca Mercalli è il Presidente della Società Meteorologica Italiana, è la più importante associazione nazionale nel settore delle scienze e della meteorologia, scrittore, giornalista, giornalista scientifico sui temi del clima e dell'ambiente. E per questo in grandissima sintonia con Mario Rigonisterno. E a Mario Rigonisterno ha in pratica dedicato uno dei suoi libri più intensi e più interessanti, Salire in montagna. E' anche curioso il fatto che lui ricordi che se Rigonisterno era un montanaro di prima classe, lui, Luca Mercalli intendo, è un montanaro per scelta. Prima si era definito di terza classe, poi è arrivato alla seconda. Adesso che vive in montagna probabilmente diventerà anche lui un montanaro di prima classe. E niente, quindi io lascio assolutamente la parola a lui perché siamo molto in ritardo sulla nostra scaletta per gli interventi precedenti, che comunque sia ringrazio molto perché sono stati chiarificanti anch'essi. Ricordo a tutti i relatori purtroppo il quarto d'ora, venti minuti. E ricordo anche che non solo c'è questa bellissima platea, ma c'è una platea molto numerosa in streaming che ci sta ascoltando. Quindi lascio la parola a Luca Mercalli con breve ricordo di Mario Rigonisterno, meteorologo. Grazie. Bene, grazie. Sì, certo. Meteorologo. A me lo ha detto lui stesso in un'intervista che gli feci nel 2002. Grazie a Daniela Fornacciarini, amica giornalista della Radio Svizzera italiana, che in maniera assolutamente inattesa un giorno mi propose. Vieni a Lugano e intervistiamo Mario Rigonisterno sul suo rapporto con la neve e la meteorologia. Fu per me una sorpresa. E poi guardate le interviste che si fanno nella Radio Svizzera non sono come quelle della radio italiana, dove bisogna fare tutto in fretta e dire le cose con poche battute da un minuto, più presto, lava più bianco e è finito tutto. La Radio Svizzera dedica puntate di un'ora e qui ne facemmo addirittura un paio, che registrammo negli studi di Lugano al telefono con Mario Rigonisterno. Ovviamente io lo conoscevo attraverso i libri, ma non gli avevo mai parlato di persona, quindi potete immaginare anche per me l'emozione, anche se lo conobbi solo attraverso una lunga chiacchierata che facemmo ai microfoni. Lui ha il telefono, io ha i microfoni della radio. Questa bella testimonianza mi ha permesso di scoprire questo suo lato di osservatore attento del tempo. Rigonisterno diceva che aveva il termometro, guardava sempre alla finestra le temperature ogni giorno, era osservatore di quelli che erano i cambiamenti dello stato del cielo, si attendeva in un'epoca in cui le previsioni del tempo ufficiali funzionavano decisamente male, cercava di prevedere l'arrivo delle nevicate, l'arrivo del vento, con quello che era il patrimonio della tradizione popolare locale. Oggi, sostituita dai supercalcolatori, la meteorologia è profondamente evoluta negli ultimi 30 anni, e Rigoni invece si rifà a quella che è la sua esperienza prevalentemente di un periodo tra tutta la sua vita dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino agli anni 70-80, nei quali le previsioni, diciamolo, non erano all'altezza delle aspettative, le previsioni del colonnello Bernacca, che sì, erano più simpatiche come incontro serale con una persona di grande garbo e signorilità, ma poi alla fine raramente erano verificate. Oggi invece sappiamo che è una buona previsione, ha un'affidabilità del 95% su 3-4 giorni, ne avete avuto testimonianza anche con l'evento estremo che c'è stato in Sicilia proprio fino a poche ore fa, che era stato in ogni caso ben previsto. Allora Rigoni amava in particolare tutti i tempi, tutte le stagioni, a cominciare anche dal suo libro, due libri, le stagioni di Giacomo e stagioni, dove c'è questo termine, le stagioni dell'Altopiano sono il suo nutrimento, la neve ne ha stupito per come ne parla, quella neve che potenzialmente, data la terribile esperienza che ne fa durante la ritirata di Russia, poteva odiare per tutto il resto della sua vita, invece no, invece ne riacquista il rapporto profondo di comunanza e ci racconta poi tanti tipi di neve, tanti paesaggi innevati nei quali si muove e troverà quel potere lenitivo dalle ferite della guerra. Lui lo dice perché qui parliamo non soltanto di un Rigoni Stern meteorologo, ma un Rigoni Stern in generale esperto di ambiente. Questa mattina abbiamo parlato tantissimo di natura, ma io penso che 10-15 anni fa, se avessimo fatto un convegno di questo genere, avremmo parlato pochissimo di Rigoni Stern ecologo. Adesso la natura va di moda, ne parlano tutti, è tutto green, eco, bio, basta mettere queste paroline davanti a qualsiasi termine, a qualsiasi attività, e tutto si tinge di verde, è il greenwashing. Ma la realtà è che non stiamo facendo assolutamente nulla di verde, in questo momento là fuori c'è il nero più totale, un nero che già avevano visto, tanto Rigoni Stern quanto il mondo dei suoi tempi. 40 anni fa, 50 anni fa, Rigoni ci parla di natura, ci parla soprattutto di una cosa importantissima di cui oggi abbiamo bisogno, che è il senso del limite, nessuno oggi vuole sentirsi parlare dei limiti, siamo una società impregnata, ubriacata di una visione onnipotente, dove tutto ci è concesso, basta avere la carta di credito ben nutrita, e per il resto abbiamo una pubblicità che ci invita ogni giorno a superare i limiti. Ma noi che studiamo un ambiente e il clima sappiamo benissimo che invece la terra è piena di limiti, le leggi fisiche non ci fanno sconti, funzionano così da 13,7 miliardi di anni, da quando si è generato l'universo, siamo noi che dobbiamo stare dentro i limiti che ci impongono le leggi fisiche, e non sono certo queste ad adeguarsi ai capricci o alle aspettative umane, ma là fuori non è così, e non lo era nemmeno 40-50 anni fa. Quindi Rigoni non è un avanguardista ecologico, era un uomo dei suoi tempi, i suoi tempi erano quelli del rapporto i limiti alla crescita del Club di Roma, che esce nel 1972, erano quelli del rapporto Brundtland, quelli del dibattito che ci fu dopo questi documenti, che era proprio quello, la crescita economica, il boom economico che Rigoni vive nel secondo dopoguerra, è qualcosa che si può portare avanti all'infinito o dovrà fermarsi? Le parole anche che abbiamo sentito prima nella citazione di questi danni, di una pianura ormai intossicata che Rigoni vede perfettamente 40 anni fa, non sono che l'antipasto di quello che poi è capitato dopo, il problema è che noi non abbiamo ascoltato né quei documenti scientifici di allora, né Rigoni sterne che in qualche modo li interpretava, li rendeva digeribili a una platea più ampia, sono tristemente naufragati, soprattutto dopo gli anni 80-90, quando arriva un certo vento di sviluppismo economico, prima con Reagan e la Thatcher, e poi con la caduta del muro di Berlino, sostanzialmente le cautele ecologiche vengono cancellate del tutto, fino a risorgere oggi presi sostanzialmente dal panico, perché oggi ci stiamo rendendo conto che quelle previsioni, che allora procuravano alcuni danni locali e limitati, sono diventati la realtà pervasiva della crisi ecologica ambientale dell'intero pianeta, di cui anche oggi i capi di Stato si riempiono la bocca, a Roma con il G20, tra poco a Glasgow con la COP26, ma sempre soltanto a parole, e non c'è mai la parola limite, si cerca di riparare il danno con gli stessi mezzi che lo hanno generato, con maggiore crescita, il nostro Premier ieri gongolava per una crescita del 6% del PIL, ma guardate che questa è la causa del cambiamento climatico, mica altra, è la crescita che è la causa del nostro scontro, del nostro conflitto con le leggi di natura, perché noi continuiamo a desiderare la crescita infinita in un mondo finito, non è possibile, è vietato, è proibito dalle leggi fondamentali dell'universo, e Rigoni nella sua umiltà, persona che diceva, io non ho studiato queste cose, anzi, nel documento, la natura nei miei libri, che fortunosamente con gli amici di Vestone ho rintracciato qualche anno fa di questo suo bellissimo discorso del 1989, nel quale fa un riepilogo del ruolo della natura nella sua narrativa, quindi un suo commento autobiografico, dice, la natura mi ha curato quando stavo male di ritorno dalle ferite della guerra, ma la natura è anche il mio insegnamento quotidiano, proprio della saper stare nei limiti, Affinati stamattina ha raccontato questa cosa, che è un suo aneddoto personale, quella del fungo, vanno in bosco, raccolgono il fungo, e Mario dice, basta questo, per la pasta asciutta di oggi è sufficiente, non c'è bisogno di raccogliere il cestino perché ne vedi tanti, allora via, buttali dentro, che così abbiamo rubato alla natura tutto quello che c'era, no, prendi quello che ti serve, questo lo dice anche in tanti suoi racconti, e dice che il carbonaio, che il cacciatore, che l'agricoltore di questi luoghi della montagna, sanno quando fermarsi, prendono ciò che serve, ma non di più, perché sanno che se prendono troppo, non c'è più il capitale naturale per gli anni successivi, queste sono le leggi fondamentali dell'ecologia, erano ben introiettate da chi abitava in questi territori, perché non c'era il commercio internazionale, che poteva sopperire ai danni che facciamo noi oggi, oggi noi esauriamo qualcosa, non c'è problema, arriva un cargo da qualche parte, ci rifornisce di ciò che non c'è più qui, negli anni venti e prima, l'altopiano era un luogo di sussistenza, di autosufficienza, se tagliavi troppo bosco, e poi c'era la frana e il bosco non c'era più, ecco le regole forestali antiche, se prelevavi troppa cacciagione, esterminavi la specie, poi non ce n'era più. Quindi questo concetto di limite, secondo me è il grande insegnamento oggi ecologico, sul presente. Mario ha scritto anche tantissimi articoli che io leggevo da ragazzo, da adolescente, sulla stampa, sulla terza pagina della stampa, io sono nato in una periferia cementizia di Torino, oggi sto a 1650 metri, ho visto che probabilmente sta per nevicare, ho 0,7 gradi in questo momento a casa, sono diventato da Montanaro, sto cercando di studiare da Montanaro di prima classe, per ora sono di seconda, sono sempre stato di terza, quando ho guardato le montagne dalle finestre di una periferia torinese di cemento, forse sono stati proprio i libri di Mario a mettermi un seme per quello che poi è diventato il mio mestiere, non voglio attribuire tutto, perché non si sa nella vita di una persona quanta parte ci sia, però io studiai il Bosco degli Urogalli nell'edizione per la scuola media, ci fu fatto leggere dalle nostre maestre, e mia mamma a buonanima mi regalò Uomini e Boschi e Api nell'81, appena uscito. Chissà che siano state queste cose qui, io vedevo le Alpi innevate, come l'altopiano si vede da Vicenza, dalle finestre della periferia di Torino, e da lì ho fatto questa scelta, proprio nell'adolescenza, le Alpi sono poi diventate il mio territorio di studio e di ricerca. Quindi questa risonanza con i valori di Rigoni Stern dell'irismo e della precisione, della descrizione della natura, non c'è solo il lirismo. Lirismo oggi ci sono tanti autori che lo fanno ma è un lirismo a tavolino. Rigoni Stern quando scrive Larice è Larice, non è Pino. Io ogni tanto vedo questi autori un po' così di città che scrivono di natura e di montagna in quel bella foresta di Pini e dico ma come lì i Pini non ci sono, non c'è il clima, non c'è il terreno, là ci sono gli abeti. Sembra di tutto un po' così. No, Rigoni scrive con i termini scientifici corretti della realtà, perché ce l'abbiamo detto anche questa mattina, è un narratore, non è un romanziere. E il narratore fotografa, restituisce delle cose che ha visto, che ha sentito di una realtà che conosce molto bene. Allora concludo dicendovi questo, che negli articoli di tarda età, quelli diciamo degli anni 2000, Rigoni fa una grossa critica della nostra società. Mi viene in mente in particolare il racconto sul blackout del settembre del 2003, quando tira un sospiro di sollievo nel vedere questa pianura che ormai dalle sue finestre è abbagliante di luci, ai vapori di sodio e di mercurio, dell'illuminazione pubblica, che nel frattempo è aumentata. Oggi non per niente abbiamo premiato al concorso letterario Rigoni esterno un mese e mezzo fa il libro di Irene Borgna, Celi neri, proprio per riconoscere questa sintonia con Rigoni di fronte all'inquinamento luminoso che dilaga. Dilaga e crea danni anche ecologici, perché disturba tutti gli insetti impollinatori, per esempio, e disturba anche il nostro sonno. Ma la gente ne vuole sempre di più, la gente vuole luce perché allontana i ladri, i ladri vengono di giorno ormai perché fanno meno fatica e bussano, suonano il campanello. Allora, Rigoni critica in quell'articolo nel settembre del 2003 la troppa luce e dice forse questo blackout ci può aiutare, perché con un po' meno di luce fuori forse vediamo. Basta, vediamo qualcosa di più dentro di noi. Che bello, che bello diventare montanari. Che bello diventare montanari leggendo Mario Rigoni Stern. Che bello che il libro che vi ho citato prima, Salire in montagna, sia in pratica dedicato a Mario Rigoni Stern. Che belli i titoli forti dei libri di Luca Mercalli come un altro molto importante, non c'è più tempo, perché non c'è più tempo, assolutamente. e... che bello, che bello, che bello,